Gagliarda che sta offrendo Verona Si riparte Bertoli tra l'altro per Kazischi Mattei Kazischi con il compito di prendersi sulle spalle a Trento E arriva anche l'ace del capitano Mattei Kazischi Rivediamo il capitano che va Un altro missile sembrava... Il video c'è che sembrava proprio nell'angolino opposto Alessandro Micheletto, Kazischi al servizio De Palma per Kazischi Risolve la situazione lui De Palma alza un nuovo pallone dietro Le palle rimangono tutti 9-8 Modena 0-1-30 Ha vinto il primo set 21-25 Rinaldi forte cambia traiettoria Micheletto la tiene alta sulla destra di Sbertoli Palla per Kazischi Parallela col goniometro Parallela con strumenti di alta precisione È veramente sempre un piacere vedere giocare 23-22 Tantissima questa battuta non bene Movic Paga dove sciato Movic Alessandro difende Alla buona per Kazischi Mattei Kazischi 24esimo punto La gran palla c'è Reianto in difficoltà Balasio che palleggia per Bottola Ancora un muro di Trento e dentro Palla dentro Parte la ricorsa di Biglino Palla su lungolinea non si lascia ingannare dalla direzione del nastro Micheletto Poi la paipa affidata alle sapienti mani di Kaiser Kazischi Vediamo Kazischi che arriva dalle racconti Pronto a partire lo fa in questo istante Va a cercare Micheletto Zavorano Kimbagger per Kazischi non facile il suo compito Zavorano che passa in mezzo La copertura di Baranovic La recupera di Catania Priboli per Trento Laurenza Bertoli Tei Kazischi La difesa di Bayram E poi il gran muro del capitano Sulla sede della Cech 16 pari Coglie Staforini un po' in difficoltà su questo soggetto di Kazischi Poi Delec Sberto di Laurenza Non in bagher Non bellissima Costretta a spingerla di là Ma tra i Kazischi Il risultato non cambia Che come Riesce a metterla giù 16-18 Guardate come è la